Ciao! In questo video vediamo assieme la funzionalità Piano Editoriale. Per accedere alla funzionalità è sufficiente accedere al menu laterale e cliccare su Piano Editoriale. Si apre una vera e propria nuova dashboard dalla quale puoi gestire e organizzare il tuo lavoro editoriale nei progetti che hai inserito a progetto su SEOZoom. La piattaforma Copywriter è fantastica perché permette ai editori e copywriter di collaborare e pianificare le attività da effettuare. È uno strumento utile sia per le agenzie che vogliono collaborare e organizzare il lavoro dei propri collaboratori, sia per chi sta cercando dei copywriter esterni con i quali ai quali assegnare dei progetti specifici. Una volta effettuato l'accesso alla dashboard editor, questo è quello che si presenta ai nostri occhi. Abbiamo una prima, un primo box laterale dove possiamo vedere lo stato attuale di quanto abbiamo fatto all'interno del nostro account. Abbiamo anche la possibilità di filtrare i dati per dei singoli mesi e possiamo soprattutto selezionare il progetto di riferimento che vogliamo approfondire. Nella parte qui laterale abbiamo invece l'elenco di tutti i nostri articoli che sono stati creati e che abbiamo assegnato, che sono stati pubblicati. Vediamo passo per passo le varie funzionalità. Nella sezione di tutti i tuoi articoli puoi trovare il titolo dell'articolo, puoi trovare la data di assegnazione e la data di consegna, cioè la data nella quale il tuo copywriter ti ha consegnato il contenuto. Puoi vedere il progetto al quale hai associato questo articolo, la categoria, le keyword interessanti di partenza sulla quale poi tutto il contenuto ruota, il copywriter di riferimento, la lunghezza dell'articolo e soprattutto lo stato dell'articolo. Approfondiamo anche le varie parti cominciando dall'inizio, come fare a coinvolgere un copywriter all'interno del proprio account. Accendiamo in alto alla sezione copywriter. Ecco che qui possiamo vedere nella prima dashboard i miei copywriter, cioè quelli che hanno già accettato il nostro invito e che fanno già parte della nostra redazione. Abbiamo la sezione altri copywriter disponibili dove possiamo vedere utenti che hanno dato la loro disponibilità a essere coinvolti nei progetti e poi abbiamo la sezione copywriter invitati dove possiamo vedere le richieste che sono in attesa. Per raggiungere un copywriter tramite email è sufficiente cliccare in questo pulsante. Per raggiungere un copywriter è sufficiente inserire qui la mail del copywriter, cliccare su invia email e ecco che stiamo mandando la nostra richiesta al copywriter che vogliamo contattare e coinvolgere. Al copywriter arriverà poi la richiesta tramite email, potrà accettare ed ecco che a quel punto il copywriter accederà da un link specifico solamente alla sezione copywriter di SeoZoom. Questa funzionalità è molto utile perché vi permette di assegnare, dare degli accessi esterni a utenti che non volete poi all'interno direttamente del vostro account. Ecco che ogni spiano di SeoZoom ha a disposizione un numero differente di copywriter da poter coinvolgere e questa funzionalità è molto pratica perché vi permette di far dare al vostro copywriter gli strumenti dell'assistente editoriale avanzato che possono essere d'aiuto per creare dei contenuti veramente efficaci. Una volta che il vostro copywriter ha accettato l'invito, ecco che vi apparirà in questa sezione assieme poi ai settori di competenza che può aver inserito in fase di iscrizione all'account. Vediamo poi delle altre parti. Nella sezione notifiche abbiamo le notifiche proprio funzionali, quindi quando il copywriter ha accettato l'articolo, quando ve l'ha consegnato, cose riferimenti a attività standard che sono state effettuate. Nella sezione messaggi invece avete la possibilità di dialogare direttamente con il vostro copywriter. Ecco che potete filtrare il copywriter, oppure potete selezionare l'articolo sul quale volete aprire una discussione e procedere all'invio di un messaggio. Continuiamo a vedere le funzionalità. Nella parte dedicata al calendario avete una visione globale di tutto quello che è lo stato di pubblicazione del vostro piano editoriale. Ecco che quindi potete vedere quali sono gli articoli in attesa, potete vedere gli articoli in scadenza, quelli pubblicati, quelli accettati dai copywriter, oppure quelli che vi sono stati consegnati. Quindi da questo calendario avete la possibilità di accedere a tutti i dati, sia in una visualizzazione proprio calendario, oppure in una parte dedicata all'agenda, dove vi vengono mostrati, se presenti, solo gli eventi, e solo se ci sono degli eventi successivi alla data in cui state lavorando. Ecco che, tornando nella visualizzazione del calendario, avete qui in basso la possibilità di filtrare per progetto, avete la possibilità di filtrare per copywriter e per categoria. Un altro strumento che è stato inserito nella sezione del piano editoriale è il pianifica keyword. Questa funzionalità è molto utile quando state andando a elaborare i vostri prossimi contenuti che avete intenzione di assegnare, e da qui potete andare a, in qualche modo, organizzare le idee sulle quali andrete a lavorare. Come funziona questo tool? Ecco che andiamo dalla parte laterale, possiamo cliccare su keyword, inseriamo una keyword su cui vogliamo lavorare, facciamo un esempio con SEO tool, immaginiamo quindi di voler realizzare un contenuto che abbia come keyword principale il SEO tool, e qui possiamo procedere in due modi, o selezioniamo direttamente la categoria dentro la quale poi abbiamo intenzione di pianificare questo articolo, oppure semplicemente possiamo anche renderlo scollegato da qualsiasi categoria, e semplicemente procedere all'inserimento. Ecco che qui possiamo scrivere quello che è il titolo del nostro contenuto, SEO tool guida online, clicchiamo su ok, ecco che in questo caso abbiamo aggiunto la pianifica correttamente all'interno del nostro piano editoriale, nel momento in cui abbiamo intenzione di procedere pianificando l'articolo e assegnandolo al copywriter, possiamo procedere su pianifica articolo. Ci viene chiesto di confermare la keyword come keyword principale, clicchiamo su conferma, e qui possiamo scegliere se scrivere essere noi e scrivere il contenuto, quindi assegnarsi direttamente il contenuto, oppure se assegnare un articolo a un copywriter. Ecco che in questo caso decido di assegnarlo ad un copywriter, clicco su avanti, ecco qui la dashboard che si apre quando dobbiamo assegnare un articolo al nostro copywriter. In alto abbiamo la possibilità di scrivere il titolo dell'articolo, è presente la nostra keyword principale, qui possiamo inserire le keyword secondarie che dovrà utilizzare il copywriter, possiamo anche assegnare delle note editoriali sullo stile o su come desideriamo venga realizzato il contenuto, possiamo indicare il numero di parole minimo che deve contenere il contenuto, la data di consegna, qui c'è una riga molto importante che ci permette di dare la possibilità al nostro copywriter di modificare la keyword principale e le secondarie. Possiamo scegliere se attivarla o meno semplicemente cliccando su questa spunta. Ecco che se clicchiamo su sì, il nostro copywriter potrà modificare la keyword principale e le keyword secondarie. Potrebbe essere un'opzione utile se sappiamo che il nostro copywriter è di grande talento e potrebbe avere la possibilità di andare a sviluppare in maniera ulteriormente e più accurata il nostro articolo. Oppure possiamo scegliere di mantenere l'opzione di default no per fare in modo che il copywriter non possa modificare le keyword principali e le keyword secondarie. Clicchiamo infine su salva. Ecco che in questo caso l'articolo è stato pianificato correttamente ed è stato assegnato al copywriter. Questa funzionalità potrebbe essere utile per chi non ha tempo di sviluppare una keyword resource direttamente negli altri strumenti dedicati in SeoZoom e vuole per velocità e praticità farlo direttamente all'interno del piano editoriale. Vediamo ancora qualche impostazione. Nella parte dedicata al feed abbiamo la possibilità di farci suggerire da SeoZoom degli articoli legati ad un settore di interesse. Ecco che potremo scegliere la categoria moda e vedere quali sono gli ultimi argomenti trattati in relazione a questo settore. Se abbiamo bisogno di spunti per realizzare il nostro piano editoriale questa sezione potrebbe venirci in aiuto. Torniamo ancora una volta alla dashboard principale. In questa sezione del tool possiamo poi filtrare come abbiamo detto all'inizio i vari progetti. In questo caso decidiamo di filtrare sul progetto di SeoZoom. Nel progetto di SeoZoom, che è relativo al sito seozoom.it, io ho deciso di inserire due categorie, webinar e SEO. Ecco che in questo caso sotto possiamo trovare il rendimento delle keyword, il rendimento del traffico, in relazione ai contenuti che abbiamo realizzato. Nel caso in cui avessimo più copywriter potremmo anche vedere quale copywriter ci sta rendendo al meglio e soprattutto quali sono le categorie che stanno rendendo meglio per gli articoli che abbiamo collegato al nostro piano editoriale. Quindi è importantissimo se ne avete la possibilità nel momento in cui andate a creare un articolo date anche una categoria di riferimento affinché possiate avere dati aggiuntivi anche sulle categorie che stanno rendendo al meglio per il vostro progetto. Proviamo ancora una volta a pianificare un articolo insieme per fare un ripasso finale. Clicchiamo su pianifica articolo, possiamo decidere se assegnarlo al copywriter o anche se possiamo decidere di assegnarlo a noi stessi. Questa opzione è utile per chi preferisce usare il piano editoriale rispetto all'assistente editoriale standard che è all'interno dell'account di SEOzoom perché organizzando gli articoli dal piano editoriale avete la possibilità anche di vedere il rendimento delle categorie o di keyword specifiche. Quindi è una modalità diversa di lavoro che vi potrebbe essere utile nel caso in cui non abbiate una redazione che lavora i vostri progetti ma anche per l'uso individuale potrebbe avere molto valore. Qui possiamo inserire il titolo dell'articolo, la keyword principale, le keyword secondarie. Possiamo creare un articolo e pianificare un articolo anche senza essere passati da pianifica keyword. Possiamo decidere di farlo direttamente al momento. Ricordiamoci sempre di selezionare il progetto, le note editoriali sono opzionabili quindi potete scegliere se inserirlo o meno. Ecco che potete decidere la lunghezza dell'articolo e la data di consegna. Infine basta cliccare su salva per poter pianificare l'articolo. Finiamo questa panoramica del piano editoriale rivedendo tutte le varie funzionalità che potete filtrare. Vi ricordo che potete vedere tutti gli articoli cliccando su tutti, gli articoli che sono stati rifiutati dal copywriter perché un copywriter ha la possibilità di accettare il vostro articolo oppure di rifiutarlo. Qui potete filtrare per gli articoli che vi sono stati consegnati, gli articoli accettati da voi, gli articoli in bozza e qui invece potete vedere se ci sono degli articoli accettati dal copy che ancora non vi sono stati consegnati, gli articoli che sono in attesa, quelli pubblicati, quelli rifiutati e quelli archiviati. Ti faccio vedere ora come funziona invece la parte dal punto di vista del copywriter. Un copywriter può iscriversi a questa piattaforma o dopo aver ricevuto l'invito tramite mail oppure semplicemente registrandosi per rendersi disponibile anche ad altri editori. Dopo aver inserito i propri dati basta cliccare su accedi per entrare all'interno della piattaforma. Ecco la piattaforma vista dall'interno. Come potete vedere abbiamo il primo articolo che è stato consegnato e pubblicato e abbiamo l'altro appena arrivato e quindi in attesa. Nel momento in cui il copywriter riceve un articolo che è in attesa può cliccare sopra il titolo per aprire il contenuto, guardare di cosa si tratta, chi è l'assegnatario, la data di consegna, la parola chiave principale, le secondarie, se ci sono delle note scritte dall'editore e può decidere di rifiutare l'articolo oppure di accettare l'articolo. Volendo approfondire è possibile ritornare al calendario per vedere anche dal punto di vista del copywriter quelli che possono essere gli impegni e quindi organizzare al meglio il proprio lavoro. Dopo aver fatto un check al calendario e capito se è possibile procedere all'elaborazione del documento, è sufficiente cliccare su accetta articolo. Una volta accettato l'articolo che è stato assegnato dall'editore, possiamo procedere scrivendo il contenuto utilizzando i suggerimenti dell'assistente editoriale. Abbiamo quindi qui nella parte laterale dei punteggi, delle indicazioni che possiamo seguire per essere sicuri di scrivere in maniera completa il nostro contenuto. Possiamo anche utilizzare le funzionalità avanzate, quindi poter capire quali sono le keyword che stanno utilizzando i competitor, poter approfondire quali sono le parole chiave rilevanti che hanno utilizzato i nostri competitor all'interno del loro contenuto. Possiamo anche vedere quali intestazioni hanno utilizzato e in che maniera hanno strutturato il contenuto con i link interni. Concentriamoci tuttavia sulle parti principali che possono essere le intestazioni, da cui potremo prendere spunto e integrare all'interno del nostro articolo. Ovviamente poi non si tratta di copiare e incollare, ma di prendere spunto ed elaborare il nostro articolo al meglio. Dopo aver fatto questo, una volta scritto il nostro contenuto, semplicemente possiamo cliccare su consegna articolo. Una volta cliccato su consegna articolo, arriverà all'editore una notifica e l'editore avrà la possibilità poi di accettare l'articolo e di pubblicarlo oppure di rifiutare l'articolo. Nel caso in cui rifiuti l'articolo, ha comunque la possibilità, tramite messaggio, di chiedere delle modifiche al copywriter. Infine, al copywriter viene data anche la possibilità di rifiutare l'articolo accettato scrivendo all'interno una piccola nota da consegnare, cliccando infine su rifiuta. Se il copywriter è a caccia di idee, può utilizzare sia i suggerimenti che vengono dati all'interno della suite, sia utilizzare suggerisce articolo. In suggerisce articolo è possibile selezionare una categoria di riferimento e accedere a tutta una serie di contenuti che vengono identificati dalla suite. Ecco che cliccando all'interno è possibile aprire direttamente il contenuto e, se necessario, poter prendere qualche spunto per scrivere il proprio testo. Per sloggarsi dalla piattaforma è sufficiente andare a cliccare sull'account e cliccare su logout. Il piano editoriale è una risorsa per agenzie e per team di lavoro che hanno bisogno di lavorare in sinergia, riuscendo a pianificare al meglio tutte le attività. Prova subito la funzionalità.